Ok, non si può fare cosa all'impianto, ci ruba la tecnologia, ma ha già indovinato la marfa. Ti conviene stare su un cerchio solo? Buongiorno! La torta del bambino, è una strada del bambino. La torta del bambino, c'è una strada del bambino. La torta del bambino, è una strada del bambino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.